Nella vita vieni continuamente sottoposto a delle minacce, a dei veri e propri ricatti. Ti viene detto continuamente se non fai questo non ti amerò più, se non sottostai a questa regola, se non fai quello che ti viene detto dalla società, da un'istituzione, non puoi fare questo, questo e quest'altro, se non ti adegui al mondo, alle circostanze, a ciò che ti viene proposto, sarai da solo, se non fai quello che gli altri fanno, non avrai le condizioni necessarie per vivere. Io non so se non sei stanco di tutto quello che ti viene imposto dall'esterno e se sei ancora disposto a fare quello che ti viene detto dagli altri. Non si tratta di ribellarsi. Quello che sto facendo non è incentivarti alla ribellione, non è quello che voglio fare, non è quello che serve. Ma io ti dico e ti chiedo, non sei ancora stanco di tutto questo mondo che ti viene imposto dall'esterno, di un mondo che non stai scegliendo tu, di una realtà che non stai costruendo tu. Io penso che tu sia stanco di tutto questo. Il problema qual è? Il problema è che pensi di non essere in grado di vivere in un altro modo, perché quello ti è stato insegnato. Pensi di non poter fare altre scelte, perché queste scelte in realtà non le conosci, magari hai anche smesso di sognare, non sei più capace di sognare, non sei più capace di realizzare i tuoi sogni, perché ti è stato insegnato che sognare è da bambini, che non è una cosa giusta, corretta da adulti. Ti è stato insegnato che le persone devono essere responsabili e devono fare cose ragionevoli. Ma non sarebbe ora. con tutto il tempo che hai perso dentro di te, se è così, lo sai che hai perso tanto tempo, che hai sprecato una parte di vita, che ti è stata in realtà utile per giungere fino qui e che ti ha permesso ora di essere qui a vedere questo video e a dire sì, sono stufo, non sono più disposto. Non sarebbe il momento finalmente di creare la tua vita, di creare la tua realtà, esattamente così come la desideri, esattamente così come la senti dentro. Non sei stufo di sentire dagli altri chi sei e chi non sei, non sei stufo che gli altri ti dicano che cosa puoi fare, non sei stufo di sentirti e di vivere ad un livello più basso, inferiore rispetto a quello che ti è possibile, rispetto a quello che senti dentro di te possibile. Io penso che tu sia stanco di tutto questo e penso che questo possa essere il buon momento per te, anche perché se stai guardando questo video non è un caso, in cui tu scegli qualcosa di diverso. Scegli di riprendere il potere tra le tue mani, il potere di trasformare la tua vita, il potere di dire basta a ciò che non ti appartiene, a ciò che non vuoi, a ciò che ti toglie energia, a ciò che ti rende debole e che tu smetta di essere vittima del volere, delle paure degli altri, dei sogni infranti delle altre persone e che scelga di costruire con le tue mani la tua vita, la vita che hai sempre sognato e la vita che tu hai il potere di costruire. E quindi il mio invito è volto proprio a ricordarti che tu hai il potere di farlo. E ti chiedo in questo video qual è la prima cosa che puoi fare e che ti faccia sentire che puoi veramente creare una vita diversa per te? e quindi proprio in virtù del fatto che so che è possibile, io l'ho fatto e i miei allievi lo stanno facendo all'interno del percorso Vita Straordinaria, posso dire a te che anche per te è possibile. Basta sceglierlo. Qual è la tua scelta per rendere tutto questo reale fin da ora? Un abbraccio di luce e al prossimo video. Ciao! Ciao!